Il San Antonio Spurs, il blocco di Kane che va comodamente sopra il ferro di Jay Williams. Mian da lontanissimo, altra tripla, il Cuonun può correre in contropiede, 3 contro 2, fascia centrale per Jay Williams, molto lucido. Mian dall'angolo, la panchina sta già festeggiando. Stare un po' più attenta, anche magari con i lunghi, in quel tipo di situazioni. Altra gran partenza di Filipovic. Di nuovo Mian, sul lato Holmes per Felice Poeta, blocco di lì, cambia accettato dalla difesa, ci riprova Mian da 3, altra tripla, 6 su 7. Di fronte a lui e ora c'è Lexa, Jalen Barford. Buona uscita, tiro e canestro. Allontana lì, alza un altro alley-oop e stavolta lì lo inchioda. Gioco a due fra Zanotti e Tambone, col primo che può inchiodare a due mani, che adesso riceve il pallone, lo consegna rapidamente a Barford. Brucia Delfino, poi galleggia in aria, splendido! Holmes, visto pochissimo. Gioco a due dei Williams. Ultimi secondi del quarto, palla nelle mani di Holmes, fronte a lui proprio Zanotti. La finta, Poeta sulla sirena, bomba! Ed è la numero 8 su 13 tentativi della Vanoli. Segna sesto e settimo punto della propria partita. Poi dall'altra parte, paga Dazio, potenziale gioco da tre. Questa è la lettura della Terna. Spazio per Mian, che rinuncia al tiro per regalare l'assist a TJ Williams. Blocco di Jarvis Williams, proprio per Mian, che riceve. Quonu, perso completamente dalla difesa. È la tripla numero 10 su 15 tentativi. Un po' troppo. Quonu, come vedete, non è abituato a tirare particolarmente bene da tre, ma lo abbiamo detto. Ultimamente le cose sono andate un po' meglio. Mian gli riconsegna il pallone. Questa vuole attaccare. Batte Justin Robinson, alza la parabola! Tutti a scuola. Non più di tanto. Poeta, una mano dal palleggio. TJ Williams, al resto. Tiro, canestro. E questo è un gran canestro. Ma stavolta proprio non c'è un elemento per ritenere che Pesaro questa partita possa riuscire a riaprirla. L'assista di Robinson è clamoroso. Alliup! Per lì! Trova, quando sembrava perso, Drell. Ancora 8 secondi. L'attacco della VL. Tambone. Terza tripla in fila. Meno 13. Forse ci starebbe un time out. Berford anticipato. Allora gioco a due tra i Williams. E poi sotto mano Mancino. 100 a 78 al finale per Lavanoli.